E' questo che ci servono i criptobionti, o c'eri già arrivato? Se le cose dovessero andare secondo i piani, potremmo ribaltare la situazione. Ma prima dobbiamo annettere Port Not City alle UCA. L'ordine di Dai Arman è al Terminale delle Consegne. Ben fatto. Un nuovo ordine disponibile. Accedi al Terminale delle UCA. Sam, mamma mi ha detto che ha completato l'arma a TCA. I prototipi faranno parte della tua prossima consegna. Un carico di aiuti per la gente di Port Not City. Port Not City è abbastanza lontana dal territorio delle UCA, ma le armi tornerebbero utili nel caso si avvicinassero. Inoltre permetterebbero alla gente di difendersi quando sono fuori dai confini della città. La spedizione include anche svariati medicinali, oltre a sperma umano e campioni di ovuli. Sono campioni essenziali per mantenere la diversità genetica, essendo stati donati da civili che vivevano fuori dai maggiori centri urbani. Sfruttando le proprietà temporali del Tirale, li possiamo conservare a oltranza finché non ne avremo bisogno. Una volta elaborata la spedizione, collega il cubit. Quando l'avrai fatto, l'intera regione sarà integrata nella rete tirale. Dopodiché dovrai andare verso Lake Not City. Abbiamo incluso un carico di aiuti anche per i suoi abitanti. Ovviamente per arrivarci dovrai attraversare il lago. Troverai i dettagli nel secondo ordine che dovrai accettare più avanti. Senza dubbio, questa sarà la tua missione più lunga per noi finora. Controlla di avere tutto. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Questa è la tua missione più lunga per noi. Quella è una sacca da trasfusione che contiene il tuo sangue Serve a reintegrarlo gradualmente nel tuo corpo Sam, questa è la prima arma anti-CA che abbiamo sviluppato Mi sono arrangiata con quello che avevo, sono delle bombe a mano modificate Almeno è così che dovrebbero funzionare, ma non sono mai state testate in condizioni reali Chi lo sa, potresti essere la prima persona a uccidere una CA e non sarebbe male, no? Anche se dovessero funzionare, non dimenticarti che richiedono il tuo sangue Se ne usi troppo, rischi di diventare anemico ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie per il tuo contributo. Grazie a tutti. 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 va bene. a tutti. 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 a tutti.